Buongiorno, mi scuso per gli inconvenienti tecnici, sto chiudendo effettivamente per la trasmissione in Parlamento. Ringrazio il Presidente De Caro per questo invito e anche un saluto a tutti gli amministratori e le autorità, agli ospiti presenti in sala. L'intervenire in chiusura è sempre molto complicato, lo è tanto più per un Ministro delle Finanze e dell'Economia con una legge di bilancio che è stata predisposta e che cerca di individuare un punto di equilibrio tra quelle che sono le legittime aspirazioni di una molteplicità di soggetti e i vincoli interni ed esterni di bilancio. L'evoluzione del contesto economico, sociale e geopolitico introduce ulteriori elementi da considerare nella progettazione della politica di bilancio e quindi questi ultimi quattro anni hanno visto una successione di evenimenti che hanno spesso rimescolato le prospettive rispetto a quanto ci si potesse aspettare anche solo pochi mesi prima. L'incertezza è stata e continua a essere il tratto dominante del contesto nel quale ci troviamo ad operare. Le tensioni che caratterizzano l'area medio orientale non aiutano a superare questa fase ma anzi, come mostrano i fatti degli ultimi giorni, delle ultime ore, aggiungono ulteriori variabili da monitorare con estrema attenzione. Il governo nel corso del primo anno ha dovuto compiere scelte molto difficili per assicurare condizioni adeguate a promuovere una crescita sostenibile della nostra economia. Questo approccio caratterizza anche la manovra di bilancio per il 2024 che continua a essere improntata a quella che ho definito la responsabilità di una prudenza realista, naturalmente molto criticata da tutti i soggetti che in qualche modo sono toccati da questi interventi, tra cui anche le amministrazioni locali. L'incertezza e l'alentamento del ciclo economico, globale e nazionale rendono necessaria la prosecuzione di interventi mirati, come quelli adottati nel corso di quest'anno, che sostengono il potere di acquisto delle famiglie con i redditi medio-bassi e che quindi di conseguenza stimolino in qualche modo la domanda interna. Migliorare le prospettive di crescita attraverso una politica di bilancio prudente è l'unico modo per riuscire a garantire la sostenibilità del debito pubblico e stabilizzare le aspettative dei mercati. Debito pubblico, che ricordo, ha raggiunto livelli eccezionalmente alti in coincidenza della crisi Covid e in relazione alle politiche pubbliche di scostamento di bilancio decise per fronteggiare l'emergenza. E per farlo è stato necessario anche un contributo consistente da parte dei ministeri, cui sono stati richiesti sacrifici per individuare parte delle risorse destinate al finanziamento della manovra. E uno sforzo analogo è stato richiesto anche alle amministrazioni territoriali, sebbene di dimensioni ridotte rispetto a quello che sarebbe risultato dall'applicazione di un taglio lineare. E nel quadro che vi ho brevemente descritto, la manovra di bilancio per il prossimo anno affronta anche alcune delle questioni che riguardano più da vicino l'attività dei comuni. Gli interventi previsti saranno quindi la caratteristica della selettività e riguarderanno problematiche urgenti e specifiche. Un primo punto riguarda il tema del riequilibrio finanziario e facendo seguito all'esperienza degli ultimi anni è stata approntata una provvista di somme pari a circa 50 milioni di euro da destinare agli enti che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o che si trovano in stato di dissesto finanziario. E questo è un intervento che mira a incentivare la conclusione di accordi con la Presidenza del Consiglio, volti a efficientare la spesa, aumentare gli investimenti e migliorare soprattutto la riscossione dei tributi. A questo si aggiungono le risorse destinate alle città metropolitane che terminano entro la fine dell'anno in corso il periodo di risanamento quinquennale dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che potranno beneficiare di un contributo per il ripiano dei loro disavanzi. Per rafforzare e favorire la tempestiva realizzazione delle opere vengono integrate le risorse già previste dalla legislazione vigente per interventi di progettazione come quelli per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, la sicurezza e l'efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per gli investimenti sulla sicurezza di strade. I piccoli comuni con problemi di spopolamento avranno inoltre a disposizione fondi da destinare al perseguimento di interventi che consentano di valorizzare territori spesso lontani dai centri e offrire servizi adeguati ai concittadini che scelgono di vivere in queste realtà. Come pure in modo limitato, ma abbiamo cercato di ricordarci delle aree svantaggiate e confinanti con la Regione Statuto Speciale e Provincia Autonoma di Trento e Bolzano. Infine si interviene sul Fondo di Solidarietà Comunale per adattarne la struttura ai rilievi della sentenza numero 71 della Corte Costituzionale del 2023 e le risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi ad azili nido, trasporti degli allunni con disabilità e sociale ritenute dalla Corte come interventi speciali sono state pertanto riallocate nel nuovo Fondo Speciale Equità a livello dei servizi che è finalizzato alla rimozione degli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona. So che tale riconfigurazione interviene in un ambito molto delicato e confido che potrà essere oggetto di ulteriore dibattito e approfondimento nel corso dell'esame parlamentare. Concludo, ho ben presente le difficoltà e l'impegno che caratterizzano le vostre giornate, i bisogni concreti e le esigenze che siete costantemente chiamati a fronteggiare. Le risorse da utilizzare per queste attività non sono mai abbastanza, lo comprendo, però non si può ignorare, io dal mio punto di osservazione non posso ignorare il momento particolarmente delicato che stiamo attraversando. In questa fase è quanto mai necessario assicurare la massima efficienza nella gestione delle risorse e dei processi amministrativi per sfruttare al meglio gli spazi a disposizione e per seguire priorità specifiche e ben delimitate. La legge di bilancio per il prossimo anno segnala la volontà del Governo di continuare a lavorare nelle sedi istituzionali per rispondere ai bisogni dei cittadini e alle esigenze del sistema economico. E lo sviluppo e la competitività dei territori richiedono un costante miglioramento del rendimento istituzionale che attraverso un percorso di crescita e modernizzazione migliori la portata e l'efficacia dell'azione di governo sia a livello centrale che locale. Abbiamo davanti a noi una prospettiva nella quale con pazienza e ribadisco responsabilità possiamo collaborare per individuare soluzioni che sappiano conciliare le aspirazioni dei livelli locali con la salvaguardia degli equilibri complessivi. Grazie per la vostra attenzione. Grazie per la vostra attenzione.